Ecco il racconto del nostro progetto sulla germinazione. Tutte le piante germogliano da un seme. Noi abbiamo piantato semi di mais e fagioli nella terra. Noi abbiamo annaffiato la terra tre volte alla settimana. Ora un nostro compagno ci mostra com'è avvenuta la semina. Abbiamo usato dei bicchieri di plastica trasparente, del terriccio, dello scottex, dei semi di fagiolo e di mais e ovviamente dell'acqua. Abbiamo coperto i bicchieri con dello scottex e abbiamo inserito il terriccio. Nel terriccio abbiamo poi messo i nostri semi, ben distanti l'uno dall'altro. In questo modo le piante hanno potuto crescere meglio. Alla fine abbiamo versato l'acqua in ogni bicchiere. Un giorno i semi sono germogliati. Ecco qui il mais e il fagiolo. La pianta ha iniziato a crescere molto. Il mais e il fagiolo sono piante differenti. Mais e fagiolo hanno semi, ecco qua, in rosso, quelli del mais e queste del fagiolo. Radici, in blu, quelle del mais e quelle del fagiolo, e foglie differenti. Ecco in verde, quelle del mais e del fagiolo. La radice del fagiolo ha una parte centrale grande, affittone. Le foglie hanno tante righe storte, ramificate. Il seme ha due parti. Il fagiolo è di cotiledone. Il mais ha radici piccole, fascicolate. Le foglie hanno righe dritte, parallele. Il seme ha una parte. Il mais è monocotiledone. Ed ecco alcune attività che puoi usare per ripetere quello che abbiamo imparato in questo progetto. Qui devi unire ogni parola alla sua definizione. Ad esempio, come si chiama un seme con due parti? Non seme con una parte. Prova ancora. In questo gioco, invece, devi unire le caratteristiche al seme corrispondente e alla pianta corrispondente. Il fagiolo e il mais. Ad esempio, in quale pianta il seme sale verso l'alto? Il fagiolo. Anche in questo gioco, devi unire le varie caratteristiche alla pianta. Quando avrai finito, puoi ricominciare. Basta spostare le parole. E infine, ecco una domanda. Clicca sulla risposta giusta. A cosa serve il cotiledone? In primavera, piantiamo le piante nell'orto della scuola. Se vuoi approfondire, puoi cliccare a questo link per visitare la pagina dell'Enciclopedia Treccani per ragazzi, in cui sono spiegate tutte le caratteristiche delle piante di cotiledoni e monocotiledoni.